Cos'è? La voglio anch'io! Qualuque cosa sia dammela E' una golia No, la voglio anch'io e la golia Non scartala Non dama la golia, ho la gola secca mmm E' tutta quanta mia No Nederland MAGOLIA Oh 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 Oh,卡ma Oh, stai male! Lascio a chiamarla! La sto chiamando... trespira, respira Ciao a tutti ragazzi bentornati su I Glitch dal mondo dei morti Karma Cloud I'm back Mi sembra il vostro amico Igo Brain Che è qua È sempre vivo Comunque Allora siamo con i fan Siamo con i fan Che vuol dire ladder edition E abbiamo due giocatori In alto a sinistra abbiamo Il Protos rosso GGG Triple GX XL Mentre in basso a sinistra abbiamo Il Terran blu Toris Molto benissimo Vediamo subito questi due giocatori cosa stanno cercando di fare Qui Rax da parte di Thor Tra poco vedremo giustamente il gas E qui nel mentre il caro Protos Si fa un portale e anche lui il gas Sono giocatori di un alto livello Si Quindi sono diamante tendente master Chiediamo un in mente perdono Se non sbagliamo qualcosa dovrebbero essere di quella lega lì Mentre vediamo subito il nostro amico Steve L'SCV Steve Che va un po' a scautare cosa sta facendo il Protos E il Protos sta facendo esattamente la stessa cosa Infatti adesso vedremo i due Mi hai spaventato Che si incontrano e si guardano Probabilmente dovremmo fare un video C'è una storia d'amore Si tra un SCV e una sondina Tra un SCV e una sondina Separati da due famiglie Una roba tipo Due casate di pari nobiltà Gli SCV e le sondine Nella bella Sejong Station Nella bella King Sejong Station Nel settore remoto di Coprulu Comunque si E quella sondina andrà da qualche parte Non mi piace questa sondina Questo tragitto così Non va lì a scautare Va lì a costruire qualcosa Te lo dico io Perché non ci sono basi lì E mentre Torisier si sta Oh E mentre Torisier Si sta esbandendo Cosa buona e giusta Stava facendo anche il reattore Da parte sulla Lux Mentre non sta uscendo ancora Nessun Reaper Niente di niente Ottimo Molto probabilmente vedremo una È uscito un Marine Questo si Ed è in patrol sulla rampa Cosa buona e giusta Torna indietro Bella la tempistica Nel mentre c'è questo pilone Che è ancora lì Adepta Adepta Da parte di G-g-g-g E anche lui si sta prendendo Bellamente la sua E anche lui Perché si sta strozzando In realtà Portale stallare Questa cosa può essere Veramente troia Cioè può essere Aspetta 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 In lontananza Cosa senti tu? Cosa senti? Wiii 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 Il proiezionamento del bunker Perché così ha meno da costruire Infatti qua c'è meno spazio Esatto Amici Terran imparate E amici Protos imparate questa porcata Che stava facendo Rrrr Sì Rrrr Sarà fantastico chiamarlo così tutto quanto al game È un muclat È un muclat Mentre sta uscendo la ricerca dell'apertura di Gate E qua niente Adesso è Niente ancora nulla in produzione Strano Stalker Il core di mamma in arrivo da parte del Protos Come da pronostico Sta uscendo la febrica Febrica Ci sta Ci sta Orbital Command Sulla seconda Sulla espansione Guarda Thor Come sospetta qualcosa Saggio Saggio Thor Ci sono questi quattro marine Che sono lì E mentre Faro della flotta Wait what? Niente Oracle Tempest Mamma mia La bestemmia è veramente facile In questi casi Sento un disturbo nella forza Io sento molto peggio Porco Porco C'è un'empia voce nell'aria Gandalf Ed è Gandalf che tira giù Sand Gandalf In verdeo Anziché il grido Che sta tirando giù Un intero rosario Di bestemmie Le lampi dietro Comunque il sospetto È radicato in Torisiar Eh sì Come la paranoia è diffusa in qualunque terra È chiaro E comunque sta uscendo la prima Tempest E quindi Tempest Io ho provato sulla mia pelle Una Tempest È arrivata molto prima però Di 4 minuti e 20 È stata No vabbè è arrivata a 4 minuti e 20 È stata terribile questa cosa Molto molto cattiva Io mi sveglio tutto sudato E deve Un'infermiera mi deve fare Un'iniezione nella spalla Tempest È un altro incubo È un altro incubo Ego brain Rilassa No le Tempest Non ci sono Tempest Non ti preoccupare Ed è lì l'infermiera Che ti strizza la pezza Bagnata La rimette sulla tua Sulla fronte Sulla fronte Fibricitante La Tempest Ah no guarda Sta aspettando di averne almeno 2 E devo dire che No no Va già È brutale Ha messo il rally point Guardate Ha messo il rally point Il range disumano nella Tempest Mamma mia Che può stare comodamente fuori Fuori dalla mappa Perché guarda È a bordo mappa Cribbio nel nero a momenti Guarda come si concentra subito Sulla torretta E beh è chiaro Così si avvicina E fa ancora più danni No rimarrà lontana I marine stanno arrivando A dare manforte In questo senso E ci sono già nel medibuck Fortunatamente Ci sono altri piloni In giro per la mappa La Tempest Continua a dare Fastidio Purtroppo non c'è lo steampack Anzi sta quasi per finire Lo steampack E i marina comunque Continua Sono già pronti Li ha sollevati Perché voleva tentare Forse di tropparli No li ha portati Semplicemente via Sì probabile Stanno uscendo due viking Da parte di Thor Le tempeste sono due Si sta aggiungendo anche la terza Una si sta concentrando Sulla donna della fabbrica L'altra sul Sul gas Mamma mia C'è C'è uscito il primo viking Forse soltanto con i viking Riuscirai a respingerli Secondo viking Sì ma non con due Non con due Deve aspettare ancora un bel po' Non con due E la terza sta uscendo Praticamente adesso Eh sì Tra l'altro L'amico Sta spendendo veramente Un fottio Tanto 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 Per gestire tutte Infatti guarda Ha delle unità Counter drop Esatto Counter drop È veramente una cosa Importante Questa qua Sta arrivando anche Il core di mamma Sì Sovraccarico fotonico Su un pilone Ci sta Ci sta Le tempeste sono diventate Tre nel frattempo E stanno diventando Sempre più fastidiose Mamma mia ragazzo Mentre comunque c'è stato Questo droppino Diciamo Sì Piccolo droppino Ha fatto comunque Qualche danno Nove lavoratori Li ha portati via Però c'è quel Candle overcharge Che Fa la differenza Le tempeste sono tre Sono rimaste tre E Thor non sta più Minando dalla main No Dalla main non riesce più Minare Infatti Oversaturata Come dice il bonigo Gli SCV Si prendono a botte Per prendere i minerali Sì Li figano tra di loro Esatto Per riuscire a fare qualche cosa È strano che non si sia espanso Thor Però giustamente ci sta Perché è impegnato a bestemmiare Contro queste tempeste Ma come ne tiri giù Con tutti quei marine Forse riesci a farcela Forse Impaccando e arrivando Lì sotto In maniera cattiva Si potrebbe riuscire A ammazzarne una Forse due Quello si E mentre guarda Adepte Counter troppo di nuovo No no Adepte che sono arrivate A casa del Ah vero si scusa Erano le adepte Del protos Guarda questo Le adepte di Questo Come sta facendo Lui è tranquillo È un Ewok Praticamente questo ragazzo Adesso Adesso guarda I viking sono quattro Eh si Sono cinque Adesso cominciano a diventare fastidiosi Anche i viking Eh 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 già Eh già Run Motherfucker Run Run to the Hill And now And now And now Forse porterà anche le altre unità Sì infatti A casa di Torisiar Tutto sta tornando lentamente e dolorosamente alla normalità Come dopo uno tsunami in Giappone Praticamente sì Il numero di gate è spropositato Sei gate in produzione Con il concilio del crepuscolo Con tanto di concilio Perché tra poco vedremo un uragano di gate unit Blink Blink Non lo so se userà il blink Ma vedremo Drop di unità per Levare finalmente il portale stellare Levarsi dalle scatole Il beacon fleet E lo stargate Ci sta Ci sta Mentre Sta arrivando Un'armata Questo manipolo Manipolo protos Che sta arrivando verso Le zone Le zone I domini Le terre Le terre Di Torisiar Le lande di Torisiar Sì Torizia Zia Zia C'è anche il core di mamma Che si sta avvicinando La ricerca anche nello scudo E anche nelle conclusive Delle conclusive Perché i marauder Sono un'ottima risposta A quello che sta arrivando E ci sta Mentre ottimo posizionamento La parte del pilone qua Che è veramente Ciube E come pronosticato Con il concilio del crepuscolo Sta facendo il blink Infatti adesso vedremo un po' come Torisiar Guarda che gli SCV Ha mandato la sondina Per vedere se c'era qualcosa Scan per rendersi conto Di quello che ha L'avversario No attack for you My friend Attack for me E la cosa che deve fare Fondamentalmente Il buon Torisiar È attaccare ora Quel pilone Distruggere quel pilone Anche perché comunque Perché comunque Guarda che ha teletrasportato Le sue unità C'è stato un must recall Da parte di A casa sua Diventa sempre più Un Ewok Un Ewok Anzi un walkie Un walkie equivoco Un walkie Un walkie equivoco Non mi piace che mi tocchi lì Le adepte aumentano Insieme anche Sono veramente tante Sono rimasti sempre quelli Vediamo un attimino le due armate Sono 17 adepte E 9 stalker Contro due Due marauder 25 marine 6 viking E 2 medivac Direi che qui i marauder Dovranno necessariamente aumentare Di brutto Per contrastare il tutto E guarda Che i due eserciti Si sono aggiunti Bellamente Si sono bellamente mancati Infatti adesso Andrà a spingere Da queste macerie Dovrà tornare indietro Ma sicuramente Adesso Dovrà tornare indietro E di brutto Sentirà Infatti l'ha visto Subito Grande torno Sta tornando immediatamente indietro Per prenderli al lato sinistro Guarda come Scan Come con la medivac Ha visto Un attimino Se c'era Se c'era Quanta armata Ecco l'ingaggio Però veramente Troppa roba E Torisier Deve andarsene Guarda i viking Che scendono Non fanno in tempo Ad arrivare le unità Guarda i viking Che scendono Ma guarda Stanno Focussando gli stalker Guarda che blink Guarda che blinkata Si vede che è un giocatore Di alto livello Bella la micro Ottima E però comunque Di per sé avrei detto Che era in vantaggio Rispetto a Torisier Però Veramente Però la stimpaccata Ha fatto un botto di male Alla dette E poi il focus Sugli stalker È stato veramente Veramente ottimo Ed erano anche A uno di attacco Infatti Sta rispondendo Con l'archivio dei templari Perché gli servono Dei massificatori Per contrastare Tutta questa bio Ebbene È stata un'ottima scelta Anche quella di far Atterrare i wikings Si I wikings I wikings E guarda dove Il buon Torisier Si va a concentrare Su questa terza Ma non è impreparato Infatti È lì che lo aspetta E lì Pallon overcharge Ha tirato subito giù L'ingaggio da parte di Thor Eh Poca roba Però forse Con quei marauder Overcurati Si si Può avere Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Le chance Ce l'ha Ottimo Stanno arrivando anche Altre mità Ciao ciao alla terza Salutiamo quel nexus Si stanno formando Gli arconti Per respingere Questo salto Giustamente perché Ancora Non ha ricercato le storm Anche perché Potrò parli A casa Anziché puntare Dalla Decisamente Dalla porta principale Di questa natural Però ho detto Sai che c'è Però si A poca roba Andiamo Bella Sti impaccata Potentissima Da parte di Thor GG Amici Complimenti Torisier Alias M92 Un applauso A Torisier In questo caso Sono due così Però vabbè Dai ci sta Non siamo ancora Degli arconti Non riusciamo a Applaudire Però possiamo farlo Vai Ci impegneremo Comunque sia Di analizzare questo game Che comunque Si è rivelato Interessante Carino E simpatico Esatto Soprattutto con questa Proxy Beach Che è stata Sì È stata fatta Esatto È stata fatta qua Abbiamo visto questo Protoss Praticamente che Subito dopo Lo scout Da parte del Terran È andato Verso Est Della mappa What the fuck Comunque Portale stellare Faro della protta E tempest a nastro Mentre si espandeva Esatto Tre tempest catificative E comunque Avete visto quanto è riuscito Quanto è riuscito Comunque Torisier A faticare Per riuscire Per rispondere A questo Proxy Infatti Non ha minato Per parecchi Per un bel po' Parecchi minuti Non è riuscito a minare Perché quelle tempest Messe in questa posizione Quasi due minuti buoni Non ce l'hanno fatta Infatti meno male Che il Bon Torisier Aveva lo spazio corto La quale ha tirato fuori I viking Sì sì Mentre è stata anche Molto bella Durante l'attacco Delle tempest Il Il counter drop Il counter drop Che non ha fatto Tantissimi danni Però comunque Gli ha fatto Ha fatto sentire La pressione Al buon Sì Lo ha distratto Quanto basta Verdi Vedi che non mi hai Cotto con le braghe calate Caro mio Sì Soprattutto poi È stato drammatico Per Grr Che ha perso tutto In questo attacco qua L'ingaggio Perché fortunatamente Torisier si trovava qua Sì Era abbastanza vicino E infatti è tornato Subito Instantly Instantly Ed è riuscito comunque A distruggerlo Non ha perso tempo E si è andato immediatamente A concentrare sulla terza E Grr Non aveva abbastanza roba Per riuscire a respingerlo Ha tentato Gli High Templar Che erano un'ottima scelta Però questi High Templar Sono arrivati Veramente troppo tardi Sì E non aveva Anche Le storm Abbastanza roba Buono il numero di gate Buono tutto Però Niente Torisier Ha giocato bene Ha giocato senza porcate Al contrario Che le ha pagate Perdendo Lo ha magistralmente Surclassato Sei un fine di tweetware Grazie caro Igor Amici Amici È stato divertente Grazie Torisier Per averci mandato Questo replay È sempre bello Vedere un protoscritto Proxy Beach Su Care Esatto Sì Prego andiamo avanti Comunque sia Commentate Condividete Fate quello che parli Di questo video Divulcate il verbo di glitch Passate dal secondo canale Passate anche dalla pagina Facebook Scriveteci tutte le domande Che vi pare Forse riuscirò a respirare Amabri no sesso Forse riuscirò a respirare Grazie per avermi dato Possibilità di respirare Non c'è di che Ah Prego Continua No Ok Va bene Fateci tutte quante le domande Che vi pare Noi risponderemo Al centesimo video Mettendoci la faccia Mettendoci la faccia Con tutta la serietà Che ci è Ci è caratterizzato Ci caratterizza Fortunelli Sì esatto Guarda Che cosa fare Comunque sia E chi non si iscrive Chi non si iscrive Chi non si iscrive Chi si azzarda a non iscriversi È un protos Che proxa male E mangia Golia Ciao 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 Grazie a tutti.